E di pochi giorni fa la notizia, secondo cui il Tare, il Tribunale Amministrativo Regionale, ha concesso ai tassisti teatrini di poter accedere negli spazi dell'aeroporto d'Abruzzo per lavorare sostando negli stalli loro assegnati. Sembrava giunta a conclusione una lunga vicenda, anche giudiziaria, grazie alla pronuncia definitiva del Tribunale Amministrativo Regionale. Ma secondo quanto si è appreso, i legali del Comune di Pescare, del Cotape, e il Sindacato dei tassisti pescaresi, sarebbero pronti ad appellarsi al Consiglio di Stato contro il pronunciamento del Tare del 31 ottobre scorso. Per quanto riguarda le dichiarazioni dell'Avvocato del Comune di Pescara, io credo che al posto di prolungare questa storia a livello giudiziario e continuare ad asprire gli animi degli operatori che hanno entrambi i diritti di poter lavorare nell'aeroporto, possiamo tranquillamente sederci per trovare una soluzione sulla turnazione che vede accontentati tutti gli operatori. L'aeroporto per un territorio è un'opportunità, ma non è un territorio esclusivo di una parte della regione. Paolo Di Paola Emilio, rappresentante dei taxi richiedi, dunque il TAR nei giorni scorsi vi ha dato ragione, però pur avendovi assegnati gli stalli qui non è possibile lavorare serenamente. Perché Paolo? Perché purtroppo ho già questa mattina, un mio collega è venuto qui a fare la fila, si è messo in fila come secondo e purtroppo tutti gli altri colleghi di Pescara sono passati avanti. Questo non lo vogliono accettare purtroppo e vanno contro il regolamento, contro le normative e contro la legge. A nostro microfono il tassista Massimo Arditi. Che cosa dire ai colleghi di Pescara? Ma noi ci auguriamo sostanzialmente che i nostri colleghi di Pescara abbiano recepito il messaggio contenuto nella sentenza del TAR e che si impegnano di concerto con noi a cercare di non far cadere più degli episodi spiacevoli successi in passato che portano soltanto a denigrare la nostra condizione e soprattutto anche l'aeroporto d'Abruzzo.